Ciao ragazzi, bentornati sul canale e bentornati su War Thunder. Oggi continuiamo a vedere carri armati, nello specifico andremo a vedere il Tiger 2 con il cannone da 10,5 cm. Vediamo subito le sue caratteristiche. Abbiamo un livello di combattimento pari a 6.7, siamo in era 5, cannone come detto da 105 con 54 colpi. Abbiamo una mitraillatrice da 7.92 con 5.850 colpi, velocità di rotazione torretta 15.7 gradi al secondo, brandeggio verticale meno 8.15, tempo di ricarica 17.7 secondi. Corazzatura, scafo e torretta davvero molto buone, però fate attenzione perché tutti i carri tedeschi, soprattutto i Tiger, questi carri pesanti, soffrono particolarmente i colpi nella torretta frontale, quindi fate molta attenzione. Penetrazione 249, 247, 234, a distanze 10, 100 e 500 metri. Membri dell'equipaggio 6 abbiamo il mitragliere, il pilota, l'artigliere, il mitico comandante, che sarei sempre io. Il servente è il, anzi doppio servente, massa 70 tonnellate, cioè nonostante il carro vi assicuro che mantiene una buona velocità massima, che si attesta intorno ai 42 km orari. Il carro è quasi completamente sbloccato, andrò a portare nello specifico i proiettili AP, CB, C, effetto AP. Ragazzi, direi che ci siamo, andiamo in partita. Mappa Polonia, come sempre nessuno va sul settore di Charlie e tutti pensano a Bravo e Alpha. Io personalmente vado sempre verso Alpha. T-34, facciamo attenzione, qui cadono i primi colpi di artiglieria. Abbiamo un T-54, abbiamo la MX-30, ok, vai, continuiamo ad avanzare per quanto sia possibile farlo. Ragazzi, un occhio da tutte le parti, perché adesso dovremmo incontrare i nemici. Al 90% dovremmo incontrare qualcuno. Vai, tranquillo, ti copro io, ti copro io con il cannone. Fammi dare un'occhiata. Vediamo. Perfetto, non c'è nessuno, è impossibile. È impossibile che non ci sia nessuno. Sulla sinistra, io vado a destra però, eh. Fammi dare un'occhiata da questa parte, poi magari convergo sulla sinistra. Non vorrei che si fossero allargati i nemici. No, c'è l'albero giù, ok. Fammi dare un'occhiata. Ecco, hai visto, là ce ne sta uno. Mi ha visto? No, non mi ha visto. Mi ha visto o no? No. Perfetto. Beccato in pieno, l'M50. Video disponibile sul canale, tra l'altro. Io penso che ci sia ancora qualcuno qui. Tempo di ricarica. Ragazzi! Un'altra kill in blind, praticamente. Aspetta, là ce ne sta un'altra ancora. No! Sì! Mi è mancato. Non vedo nulla. No, non vedo nulla. L'M103. È l'M103. Mi sa che qualcuno arriva anche da dietro. Senza, mi sa, è lui. T34. Ragazzi, ma un po' di collaborazione, un po' di copertura, non so. Non è che posso fare miracoli, eh. Non è che posso fare miracoli. Il 103 ha distrutto il 54. Allora, fammi dare un'occhiata qua. Uh! Eccolo. Eccolo, eccolo, eccolo. Ce ne stava uno lì. Guardalo, guardalo, guardalo. Uno là. Perfetto. Se sta l'M103 nascosto, potrei arrabbiarmi. Potrei arrabbiarmi anche molto. Eh, la vittoria è vicina, però... Stiamo attenti. No! Il T29 mi stava aspettando. Dai! Pensavo che era l'altra. Pensavo che era l'altro passaggio dove mi poteva vedere. Invece era quello. Vai, vai, tranquillo. Tranquillo, ti salvo io. Tranquillo, devi stare tranquillo. C'è Devi. Ok? Hai visto? C'è Devi, cioè... Non so se mi spiego. Dai! Ah! Grazie! Meno male. C'è Devi. Potevo fare una easy kill. Una easy kill... Si è tramutata in nulla di fatto. Perché ero convinto della mia mira in movimento. Cosa alquanto non buona. Va bene. Questa è la classica partita dove non si deve fare nulla. Nel senso, devi solo avanzare e sperare di trovarti davanti un nemico. Per poter utilizzare il proprio cannone. Non so se mi spiego. No, non c'è nessuno. Eppure i carri nemici ci sono, eh. Siamo ultimi ancora nel punteggio. Aspetta lì. Sì! Una kill per Dave. M19. E vai! Avete visto come si distrugge l'antiaerea? Eh, non so se mi spiego. Cioè, ragazzi, qui, alti livelli. Sono molto vicini loro, eh. Sono qui sotto, per intenderci. Guarda, 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 dove sta? Eccolo. Ma chi è che mi sta sparando da un'ora? Dai, non dare fastidio. E mi ha distrutto la canna. Mi ha distrutto. Mi ha distrutto la canna. Dove stava? Sta lì. Fatti vedere. Guarda, 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 ha respawnato. Guarda, guarda. Tutto convinto e tutto allegro. Sarebbe davvero un peccato se Dave ti distruggesse nuovamente. No, dai! T25. Mannaggia. Abbiamo fatto solo... Una kill degna di nota. Eccolo, eccolo. Aspetta, ha respawnato di nuovo. Dai, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Ci prendiamo la kill, dai. No, è andato a fuoco. E' mia. Sì, una kill per Davey. Ragazzi, ma avete visto come si distrugge l'antiaerea con questo carro? Non so se mi spiego. Qua veramente alti livelli. Altissimi livelli. Eccolo, eccolo. E' un colpo. Sei fortunato, lo sai, è vero? Solo un colpo. Sei molto fortunato. Ti avevo beccato in meno di due secondi. Siamo, come sempre, nella mappa che odio. Dobbiamo andare alla famosa casetta. Ormai l'avete capita qual è. Per avere una posizione si spera di vantaggio. Questo passaggio, invece, è sempre pericoloso perché ci stanno i camperoni giustamente con i cacciacarri che si posizionano e possono distruggerti. Abbiamo qualcuno sul settore di Bravo. Probabilmente un carro leggero. Vediamo un pochino cosa troviamo. Ok, T30-400 distrutto. Anche un carro medio, magari. Ok. E' difficile, come potete ben vedere. Spottare qualcuno. E' difficilissimo. Aspetta, abbiamo quello lì che è avanzato. Tra l'altro, un cacciacarri di tedesco molto interessante. Uh, distrutto. T30. Eh, e adesso? Dobbiamo cercare di vedere ogni singolo movimento. Aspetta, là ce ne sta uno. Ok, il 44. Non so se è il 44 di prima. So semplicemente che adesso... Eccolo, 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 eccolo. No, non sparare con la metà di trice. Ecco, hai visto? Si alza la polvere. È lì. Perfetto, IS-2. Qua c'è sempre un T30 che sta facendo piazza pulita dei nostri carri. Là, ce ne sta uno. Perfetto. Non lo vedo, però. Almeno un po' la canna devo vedere, altrimenti non... Eh, vabbè, mica sempre. Secondo me è un po' più alto. Leggermente più in alto. Eh, io non vedo nulla. Vado intuito. No, nulla. Lasciamo stare. Non ho veramente nessun... Eccolo. Ora lo vedo. Eh, l'ho visto tardi. Era l'M4. Va bene, va bene, va bene. La situazione è molto critica. Perché a noi piace così. Non ci piacciono le cose semplici. Qui hanno sfondato molto bene. Bene. Scusate il gioco di parole. Io proverei una piccolissima... Avanzata verso la casetta successiva. Eh, sì. Tocca a noi. Chi è che spara? Ma come si fa? Come si fa a beccare... La casa anziché il carro che è a mezzo centimetro più sulla destra. Come si fa? Guardalo. Mannaggia. Non ci voglio credere. Ma vuoi sparare, Davy? Vuoi sparare che ce l'hai davanti da un'ora e mezza? Ma ti rendi conto? Eh, là ce ne sta uno. Non lo vedo. Lo vedo. È lì, è lì. Sta là dietro, sta... Uh, c'è un altro lontano. Non ho mancato. Va bene così, va bene così. Siamo due contro uno, però. Guarda, 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 guarda. Mi ha beccato. Perfetto. Guarda, si vede solo... Poco, poco la torretta, si vede. Ma dove vai? Dove vai? Dove vai con quel cannone? Che fai ridere con quel cannone. Veramente ti vuoi confrontare con un Tiger 2? Solo a lunga distanza? Sei serio? Ma lo sai il cannone che ho? Tra l'altro stiamo facendo davvero una buona partita. Non dico partitone, casomai... Vado a rompere la magia. Però stiamo andando, ragazzi, molto, molto bene. Se non fosse per quei carri che ancora sono nascosti lì dietro. Perché so che ci sono. Io lo so che ci sono. L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Tranquillo, tranquillo, tranquillo. Ti salvo io, ti salvo io. L'avevo visto, però. Dove è andato? Là ce ne sta sempre uno, tra l'altro. Colpo! Ottimo! Sta bruciando? O è il nostro che brucia? Mi sa che è il nostro che brucia. Eccolo. Bravo, bravo, bravissimo. Aspetta, c'è un altro? Perfetto. Abbiamo l'ISU-152. Quel cannone vi assicuro che fa molto, molto male. Io a questo punto, ragazzi, avanzerei. Perché altrimenti non vedremo mai chi si cela dietro le casette. Guardali, devi prenderli uno ad uno, purtroppo. Qualche movimento. Cercate di percepire ogni singolo movimento. Magari un albero che cade, un cespuglio che si muove. Qualsiasi cosa per trovare i nemici. Mettete il binocolo, perché senza binocolo non fate nulla. Direi che è una delle cose principali del gioco. Forse è più da Charlie. Ecco, appunto. Vedilo, 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 vedilo. Da Charlie, a Charlie. Non so se l'avete visto. Canne e comandante. Canne e comandante su quel carro. Stai scherzando? Sei serio? Non so, mi vuoi prendere in giro? Su quel carro? Che non ha corazza, non ha nulla. Ma come si fa? È ancora vivo, tra l'altro. AMX-13. Ecco, è pure piccolo quel carro da vedere. Ok, l'abbiamo bloccato il capo. Eh, eh no, da dietro, da dietro. Lo sapevo, da dietro! Che mi dovevano fregare da dietro alla fine. Guarda quello da dove mi prende, da casa sua, come sempre. Guarda quanto era lontano. Va bene, torretta. La partita ormai è terminata. Come potete ben vedere, abbiamo sia il settore di Alpha, che di Bravo, che di Charlie. Abbiamo fatto un'ottima prestazione sul settore di Bravo. Non è rimasto che vedere i risultati post-scontro, cosa ci vanno a dare. Vediamo se c'è tempo ancora per qualcosa. No, siamo arrivati anche ai secondi. Non fa nulla. Sinceramente, della posizione in classifica. Me ne frego altamente. Allora, come detto, abbiamo fatto 5 kill. Abbiamo ottenuto anche, vediamo qualche riconoscimento. Sì, esattamente. Doppio colpo, serie di attacchi furtivi per 3, soccorritore di carri per 2, professionale per 5, furia metallica. Ragazzi, video terminato. Grazie per l'attenzione. Noi, come sempre, ci vediamo alla prossima. Ciao! 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 Grazie a tutti